eccoci qua qua sopra quasi pronto allora stanno cuocendo gli sciatelli vi faccio vedere stanno cuocendo gli sciatelli adesso li scolerò qualche minuto prima della cottura e li metto direttamente nel sughetto vedete faccio continuare la cottura qualche altro minuto qua dentro un attimo attimo di pazienza ecco qua visto scolando un po più ecco qua ecco qui adesso si insaporiscono per bene nel sughetto che si è formato e buon appetito a tutti aspettate che vi faccio vedere che di giro vedete vedete che bel sughetto ecco qua buon appetito